Ciao a tutti! Esattamente un anno fa, in questa data, pubblicavo il mio primo video su questo canale YouTube. Era il video sui 30 minuti di tecnica. Qualche giorno fa il canale ha inoltre superato i 1000 iscritti e quindi per prima cosa voglio ringraziarvi tutti, voglio ringraziare tutti quelli che mi seguono per il sostegno e la partecipazione e l'apprezzamento che avete dimostrato in questi mesi a questo progetto. Per festeggiare questo duplice anniversario voglio farvi una proposta, mi è venuta un'idea. Se volete in questa settimana dal 20 al 27 maggio inviatemi dei brevi video con una domanda, una curiosità, un quesito riguardo i temi che tratto normalmente all'interno del canale. Selezionerò alcuni il più possibile di queste domande, se ne potervi creare dei video di risposta che siano condivisibili anche con gli altri. Penso infatti che molte volte i temi, le domande, le questioni poste possano essere di interesse anche per gli altri iscritti al canale, per gli altri appassionati di violino, di musica e in generale di temi che si trattano in questo spazio virtuale. Inviatemi o via email al mio indirizzo t.luison-gmail.com oppure inviandomi un whatsapp al numero che trovate qui in descrizione e anche sulla home page del canale oppure potete usare anche WeTransfer o altri servizi per spedire file. Grazie ancora per il supporto, per il sostegno e per l'apprezzamento. Inviatemi le vostre domande attraverso i video che poi inserirò anche nei video di risposta e continuate a seguire questo canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!